Noi abbiamo di bei ricordi perché fin da ragazzini si usava andare imparare a nuotare nei canali. Tante cose sono cambiate. Per lavorare qua a Venezia, la particolarità che non ci sono macchine o cosa, facciamo tutti i trasporti con le barche, barca da trasporto che abbiamo. Qui vivi in l'acqua, non c'è auto. Influenza molto perché o fai o fai o fai botti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.